Napoli aderisce alla raccolta di firme per la proposta di legge che chiede di istituire l'educazione alla cittadinanza come insegnamento obbligatorio in tutte le scuole. L'obiettivo è quello di rafforzare il senso delle regole di convivenza, il valore della partecipazione civica, la cognizione dei diritti e dei doveri del cittadino con uno studio approfondito della Costituzione Repubblicana. È fondamentale essere cittadini forti, responsabili, consapevoli ed è quindi importante far tornare protagonista della scena della scuola italiana all'educazione civica che negli ultimi anni è stata un po' distrattata. Ci sono già tantissimi docenti, dirigenti scolastici che fanno dei progetti eccezionali sulla tutela ambientale, la legalità, il bene comune, la Costituzione ma sono un'eccezione. È importante invece che l'educazione civica torni la regola. L'educazione civica fu introdotta a scuola nel 1958 affidata per due ore al mese al docente di storia. Questa proposta di legge chiede di elevarla a disciplina autonoma con un'ora settimanale in tutte le classi e con la valutazione dell'apprendimento come per ogni altra materia curricolare. La storia della scuola italiana ha scelto di mettere questa materia in una posizione marginale, sempre insegnata dai docenti di altre discipline, senza mai investirci seriamente e in contrasto con quello che invece ci dice l'intera Europa, visto che tra le otto competenze chiave di cittadinanza l'Europa inserisce proprio l'educazione alla cittadinanza. Per sostenere questa proposta di legge è possibile firmare a Palazzo San Giacomo e in tutte le municipalità. Indirizzi e orari su www.comune.napoli.it. E anche le onlus, le associazioni, possono organizzare banchetti nel proprio quartiere nella città di Napoli dove anche in modo gratuito l'occupazione di suolo gli consentirà di poter raccogliere quante più persone interessate a sostenere questa sfida che è una pagina di democrazia ed è importante che venga proprio da una città come Napoli. È molto importante, si unisce all'educazione civica, al dovere del cittadino, dell'attuazione della Costituzione, dell'essere protagonista della propria comunità, piccolo o grande che sia. Il suo paese ha sempre più bisogno di cittadini consapevoli e quindi l'attività educativa e pedagogica sin dall'infanzia e dalla scuola è fondamentale.